Let's go bitches, pubblicità occulta, ecco qui a Real Madrid Comunque, questo qui è un video un po' particolare, è un vlog Oggi nessun video, diciamo, nessun video, come posso dire, di COD È una cosa abbastanza seria di cui voglio parlarvi Allora, per prima cosa, sì, pubblicità occulta al, uffa, mi sbaglio sempre, sta qua Al Real Madrid, quindi ci sono gli illuminati, c'è Real Madrid dietro il Sublime No, non è vero, non scherzo Voglio dirvi una cosa molto importante Che non faccio più parte della Scoof Gaming Ma ora faccio parte della Barn Controller Cos'è la Barn Controller? È una società che produce sempre pad simili alla Scoof Ma in diverso modo, le loro vernici, i materiali utilizzati Il tipo di pad e la personalizzazione che si può avere sul proprio joystick È di un altro livello, totalmente, rispetto a un joystick della Scoof Quindi, quello che voglio dirvi è che Ora ci sarà un codice sconto per i burn Tra l'altro hanno un anno di garanzia, se non sbaglio E, oltre che ci sarà questo codice sconto Ci saranno, diciamo, proprio dei pad dei Sublime E infatti, quello che state vedendo ora è proprio uno dei pad dei Sublime Spero vi piaccia, c'è il nostro logo, c'è il colore C'è la possibilità di avere della personalizzazione E sotto ci sono proprio delle ali Un classico rimando, comunque, a quello che è il grifone Che è il nostro logo Comunque, oltre a questa, le immagini che avete visto Voglio parlarvi di una cosa molto seria Che riguarda il mio canale Per prima cosa Ora inizierò a giocare a Dark Souls 2 Da domani Quindi inizierò a fare gameplay di Dark Souls 2 Per quanto voi me ne vogliate Non mi importa, io lo farò È un gioco che amo Sono abbastanza bravo a quel gioco Almeno al primo l'ho praticamente stuprato Quel gioco a 700 ore, ve l'ho sempre detto Ho avuto dei problemi a giocarci sul PC In questo periodo E quindi non ho potuto fare gameplay Ora inizierò da domani su 360 Su Dark Souls 2 E sarà anche un modo per voi che giocate a Dark Souls 2 Di giocare con me, tra l'altro Ma non voglio parlarvi solo di questo Oltre a questo Giocherò anche a prossimi giochi come MMO MMO sono Massive Multiplayer Online RPG MMO del tipo Come posso dire Tipo Delderscrolls Online su PC Io ci giocherò E farò dei gameplay su quello Perché lo faccio? Perché voglio farlo? Perché voglio fare gameplay di quel tipo Perché mi piace quei giochi Io non sono solo un giocatore di COD Gioco anche ad altri giochi Quindi proprio per questo Voglio farvi riconoscere un pochino Come sono e cosa faccio sugli altri giochi Ho iniziato con COD E non penso Finirò su COD Perché Perché se facessi solo questo Beh Se facessi solo COD Vuol dire che avrei già avviato un'attività Sfortunatamente Non ho avviato niente di tutto questo Ancora vado a rilento su YouTube Non faccio abbastanza soldi Da consentirmi di concentrarmi sul gioco E non ho abbastanza views Da consentirmi Di fare un video al giorno Io Voi mi conoscete Molti di voi da settembre Più o meno Da quando ho iniziato A fare un video al giorno E ad essere più professionale possibile Ma Quello che ho notato È che Facendo un video al giorno Acquisisco iscritti Ma non acquisisco le views Non è importante Quanti iscritti si hanno Anzi Sì È importante a un certo punto Ma è importante anche le views Le views sono a un punto stabile Quindi la mia idea È ora di iniziare delle serie Su cui sto lavorando Che saranno Preparate Quindi richiederanno Abbastanza tempo Per essere preparate Vi farò dei piccoli spoiler Per esempio Vincere 100 partite Di Lega Su Ghost Con un gruppo Scelto da me di persone Un altro invece Sarà giocare Game Battles Quindi partite Proprio di Game Battles Serie O partite di Lega Con classi scelte da voi Quindi voi mi potrete mettere in difficoltà Come aiutare Tutte le votazioni verranno fatte O su Youtube O su Facebook O su entrambe le cose Perché questo? Perché vi sto dicendo Non posso fare un video al giorno? Bene Perché in questo caso Cercherò di dare delle scadenze Ai miei video Che saranno ogni due giorni Più o meno Ho pensato di pubblicare i video Secondo questa scadenza Che sono Martedì Giovedì E domenica Che è la prima fase E potete mettere mi piace Qui sotto Al commento E quindi Fatemi sapere Se vi piace di più questa cosa O se no Fare video Martedì Giovedì Sabato In questo caso Quindi ogni due giorni O cambiare Fare lunedì Mercoledì E venerdì E tenermi poi sabato E domenica liberi Diciamo O se no Fare anzi Quattro video Lunedì Mercoledì Venerdì E domenica Anche questo potrebbe essere Una possibilità Non lo so bene Io vi sto mettendo tutte le opzioni O continuare a fare un video al giorno Perché sto scegliendo di fare questa cosa? Perché voglio cercare di preparare video Che possano essere presi Da un maggior numero di utenti Video sempre professionali Sempre competitivi Non sto scadendo nel ridicolo Come sapete Non mi piace Fare comicità Non è che non mi piace fare comicità Che la vedo fare a tutti Quindi mi sembra un ambiente saturo Un qualcosa che Ormai fanno tutti Cioè perché dovrei farlo pure io? Io mi distingo perché Ho delle capacità Faccio certe cose Per una mia scelta E perché Sono arrivato fino a qui In questo modo E continuerò a fare così Quindi Quello che voglio dire Votate qui sotto Come preferite I prossimi video Non vi faccio altri spoiler Su nuove serie Come vi ho già fatto Ho già detto troppo Tra l'altro E Mi dispiace Se alcuni di voi Saranno abbattuti Da questa cosa Ma dovete pensare Pure al fatto Che io sto cercando Di crescere su youtube Se riesco a crescere su youtube Posso far diventare Questa una cosa seria Ci sono dei progetti Dietro questo Che non c'entrano niente Con me Ma c'entrano con quello Che è il discorso Della community italiana Competitiva La community e sport Riguardante code Ma riguardante anche Altri giochi Quindi Tutto sta In quanta gente Riesco a convolgere Sono Ho 17.800 iscritti Più o meno Ho una media Di 6.000 views E magari molti di voi Vedono il video due volte Non lo so Però Questo fa capire molto Di com'è la community italiana E non posso continuare così Quindi Se mi do una scadenza Sono in grado di fare Video magari migliori Attirare più gente Ma attirare più gente Non intendo attirare i casual Magari Ok li attirerò Ma non è quello che voglio fare io Io voglio concentrare la gente Verso il competitivo Se io giocassi a World of Warcraft Farei arene Vi mostrerei arene Vi farei vedere come gioco Le arene Eccetera eccetera Ad esempio Non andrei a fare cose semplici Banali Trollate eccetera eccetera Perché non è nel mio stile Non è il mio modo di giocare Io gioco per cercare di vincere È il mio obiettivo Principale quando gioco Ma in qualsiasi cosa faccio Quindi Quello che vi voglio dire È Non siate delusi da questa cosa Spero Magari Che ci sia un grande incremento Comunque di views E iscritti E quindi di ritornare A fare video un giorno Ogni giorno Perché io sono partito così Con questa Diciamo professionalità Da settembre Più o meno I primi di settembre Ho detto ok Ora faccio così Divento professionale Faccio un video al giorno Cerco di invogliare più gente possibile A vedere i miei video Eccetera eccetera Ci ho provato Sono arrivato abbastanza in alto Ma non è abbastanza Non me lo posso permettere Di fare un video al giorno Se lo possono permettere I grandi youtuber Non io che sono ancora piccolo Ok Mostro di essere professionale Di avere sempre qualcosa Da far vedere Di avere sempre qualcosa di pronto Ma In questo modo Rimane tutto bloccato Quindi l'unico modo È questo O Per qualche miracolo In questi giorni succede qualcosa Non vi ho ancora detto Quando inizierò a farlo Ma Non so bene quando Lo saprete Quando inizierò a farlo Quindi per ora Continuerò con un video al giorno Io spero vi sia piaciuto Questo vlog Mi raccomando Non siete tristi Non siete incazzati Spero che mi capiate O anzi Se volete Ne possiamo parlare qui sotto Io non penso che Uno debba reagire in malo modo Per questa cosa che ho detto Il mio pensiero È quello che sto cercando di fare Quindi Io spero vi sia piaciuto Questo vlog Bitches Ci becchiamo al prossimo video Let's go